Avete presente quando state guardando una serie tv e la puntata si interrompe proprio sul più bello? Bene, questa stramaledetta abitudine prende il nome di cliffhanger e si, ha proprio il compito di inserire un'interruzione in corrispondenza di un colpo di scena costringendoci così a guardare anche la puntata successiva Questa tecnica ovviamente non è stata inventata a caso ma bensì è stata creata perché proprio come rivela lo studio dell'effetto Zeigarnik che tra poco vedremo, noi persone tendiamo ad interessarci maggiormente ad un argomento non ancora concluso e questo non perché siamo troppo curiosi, ossessionati dal sapere come finirà una serie tv poi in certi casi magari può anche essere così ma comunque tendiamo ad interessarci maggiormente ad un argomento non ancora concluso semplicemente perché la nostra mente non trovando un punto di chiusura a ciò che stava elaborando cercherà di tenere maggiormente vivo quell'argomento prima di archiviarlo ma facciamo un passo indietro poco fa ho parlato dell'effetto Zeigarnik quindi che cos'è e in cosa consiste questo effetto nasce dallo studio di una psicologa lituana chiamata Zeigarnik appunto la quale osservando vari camerieri notò che questi erano portati maggiormente a ricordare le ordinazioni parzialmente eseguite rispetto a quelle già concluse questo perché come ho detto poco fa la nostra mente cercherà sempre di trovare un punto di fine un punto di chiusura prima di aprire nuovi argomenti ma ora ti racconto una storia per farti capire ancora meglio durante un esperimento i partecipanti avrebbero dovuto risolvere un puzzle molto complesso così dopo aver dato loro il via ed essersi focalizzati sulla risoluzione del puzzle i partecipanti vennero interrotti e non in un momento a caso ovviamente ma proprio poco prima del termine inoltre venne detto loro che l'esperimento era concluso sebbene non fosse parte dell'esperimento però più del 90% dei partecipanti conclusero il puzzle per conto proprio bene cliffhanger che letteralmente significa rimanere appeso ad un precipizio proprio come in questo caso insomma un'attività non portata a termine sembra quindi creare tensione e sovraccarico psicologico che guarda a caso si libera solamente dopo aver completato quell'attività questa stessa tensione però ci fa anche ricordare ciò che avevamo lasciato in sospeso quindi bella questa storiella ma insomma come possiamo sfruttare la tecnica cliffhanger a nostro vantaggio lasciamelo dire la tecnica cliffhanger trova molteplici applicazioni vediamo tre applicazioni principali numero uno cliffhanger applicato alla produttività il miglior modo per smettere di posticipare lavori importanti è proprio quello di iniziarli beh mi sembra ovvio ma non sempre lo è infatti prova a pensare a quante volte diciamo noi stessi di dover iniziare un'attività ma poi inevitabilmente finiamo per posticiparla di giorno in giorno ricorda però grazie alla tecnica cliffhanger la necessità di portare a termine qualcosa che abbiamo iniziato creerà pensieri nella nostra mente che ci porterà inevitabilmente al completamento di quella attività quindi il modo migliore per concludere un competo è proprio quello di iniziarlo proseguiamo cliffhanger applicato allo studio l'applicazione più comune in questo caso è quella di fare una pausa durante lo studio banale? prova a pensare se dovessi leggere un libro tutto d'un fiato alla fine del libro molto probabilmente le cose che ti ricorderesti sarebbero due, tre, quattro, cinque ma sicuramente non ricorderesti tutto il libro questo perché ovviamente la nostra mente non ha il tempo di elaborare tutte le informazioni che leggiamo quindi è meglio studiare dividendo in parti e fare delle pause tra una parte e l'altra perché se è vero che si ricorda maggiormente ciò che portiamo a termine le pause permetteranno di riposare e di rielaborare ciò che abbiamo appena letto infine cliffhanger applicato al marketing beh in questo caso è semplice basta pensare ai trailer dei film o alle serie tv che si interrompono proprio sul più bello o che ne so alle prime pagine di un libro o alla copertina di un video di youtube il classico 5 strategie che ti sorprenderanno insomma il cliffhanger applicato al marketing ha proprio l'obiettivo di presentare un'idea incompleta che possa però creare una certa tensione e desiderio di completamento anche per oggi direi che siamo giunti alla fine di questo video fammi sapere se ti è piaciuto e iscriviti al canale per non perdere i prossimi appuntamenti noi ovviamente ci vediamo alla prossima iscriviti al canale